Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore, non è il mio mestiere, non voglio governare e conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile, ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi, esseri umani, dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci o disprezzarci null'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più avviette. Abbiamo mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformato in cinci, l'abilità, ci ha lesi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà dell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare genti innocenti. A coloro che mi odono, io dico, non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umane, l'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori e il potere che hanno intorno al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete di bruti, uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi reggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima, uomini macchina, con macchina al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi non odiate. Coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Ricordate nel Vangelo di Stelupo che è scritto, il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, ma non di un solo uomo, non di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi, voi, popolo, avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi, il popolo, avete la forza di fare che questa vita sia bella e libera, di fare della vita una splendida avventura. Quindi, in nome della democrazia, uniamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo, che sia migliore, che dia a tutti i nuovi un lavoro, ai giovani in futuro e ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei brutti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai le faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per eliminare il mondo, eliminare le confini e barriere, eliminare l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso chiedono tutti gli uomini il benessere. Soldati, in nome della democrazia, siate tutti e le loro ragionevole, un mondo in cui la scienza e la scienza e la scienza e la scienza